Sono stati oltre 500 i cittadini che hanno sottoscritto la proposta di delibera popolare che chiede di salvare la casa delle culture. Dopo l'annuncio della sua probabile chiusura, le associazioni che a vario titolo in diverso modo hanno operato all'interno della struttura hanno espresso le loro preoccupazioni per le conseguenze di questa decisione e manifestato la propria contrarietà. Le associazioni chiedono che del problema venga investito il consiglio comunale. La casa delle culture è una struttura fisica, un palazzo, un luogo fisico nel quale ci sono sostanzialmente due tipi di attività. La prima è quella di sportello che serve per facilitare il rapporto tra cittadini stranieri presenti ad Arezzo e le istituzioni locali. la prefettura, la questura, la ASL, l'ufficio del lavoro, tutti quanti, vengono accompagnati questi cittadini nello svolgimento delle pratiche che sono necessarie e che non sempre sono facilmente comprensibili. Il comune l'abbiamo appreso in occasione di alcune interrogazioni che sono state fatte in consiglio comunale. Pare che la giunta comunale abbia proposto, abbia l'idea, insomma abbia il progetto di chiudere questa esperienza, probabilmente a partire dalla fine di maggio. Chiudere questa esperienza magari mantenendo solo lo sportello informazione, come è stato detto, che però è una visione riduttiva del problema perché come ho detto prima non è uno sportello di semplice informazione, la casa delle culture è molto di più che il solo sportello. Non sappiamo altro e non sappiamo che tipo di prospettiva, che destino c'è per queste attività che abbiamo messo in piedi in questi cinque anni e che ci sembrano rilevanti. Non abbiamo altre notizie. Sicuramente la scadenza del bando che era prevista per marzo e stata prorogata per i due mesi fino alla fine di maggio è un motivo di riflessione, mi immagino anche per il comune, su questa tematica. Mi auguro che però non sia soltanto quello, cioè nel senso l'investimento che il comune può fare, data anche la rete che si è venuta a creare tra le varie associazioni, tra la partecipazione dei cittadini aretini a vario titolo, possa essere una spinta affinché questa esperienza in qualche modo, in qualche forma possa essere continuata. I settimanalmente vengono erogate 110 ore di corsi di lingua italiana, all'interno dei quali non ci limitiamo a far apprendere la grammatica, ma anche tutte le regole che i cittadini italiani e stranieri devono seguire per la buona convivenza e l'integrazione all'interno del territorio.